Musica Risale l'indice di contagio De Luca, servono i vaccini. Il governatore rilancia la campagna vaccinale, attacca Salvini e Meloni, dicono stupidaggini e annuncia un nuovo ospedale a Salerno in 2-3 anni. Intanto l'indice dei positivi risale al 2,62% con 151 case e 6 morti. Scuola alla ripartenza con l'incubo del Covid. Sono 800 mila gli studenti che in campagna torneranno in presenza da oggi a mercoledì. Il messaggio dell'assessore Fortini, ospite di punto di vista, mantenere le misure di sicurezza per scongiurare possibili contagi. Fallimento alto calore, la politica in campo, 150 milioni di debiti e nessuna prospettiva di risanamento. Il procuratore Roma chiede il fallimento della società che gestisce il servizio, le reti idriche di Irpini e Sagno. Il presidente Ciarcia sorpreso da questa iniziativa. Elezioni, il Tarri ammette la lista della Clemente. Bocciata a Napoli, la compagine della Lega e le due civiche di Maresca ok alla formazione della Clemente, inizialmente esclusa per un vizio formale. A Benevento si riaccende lo scontro tra Moretti e Mastella. Salerno, dati da record per il porto commerciale, non solo il turismo, anche il traffico commerciale è ripartito, le performance economiche dello scalo sono positive, il presidente dell'autorità portuale annunziata sicura, grande occasione di sviluppo. Calcio, 8 gol alle 21, Vigorito Sare Studio, il presidente del Benevento, ospite questa sera della trasmissione del lunedì di Otto Channel, dedicata alla strega, puntata da non perdere. Intanto il Napoli pensa all'Eister dopo l'entusiasmante vittoria sulla Juve, crisi nella Salernitana. Questi nostri titoli, buonasera e ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 696. In apertura l'avete appena sentito dei titoli, con 151 casi e altre 6 vittime, torna a salire l'indice di contagio Covid in Campania, dove la curva si attesta al 2,6%. Il servizio. Il Covid non mola la presa sulla Campania e, come sempre, dopo il fine settimana, quando vengono processati meno tamponi, risale la curva dei contagi, che ora si attesta al 2,6%. Nell'ultimo bollettino sono infatti 151 in nuovi casi registrati. Il leggero calo ai ricoveri sia in terapia intensiva che nei reparti di degenza ordinaria. Nel report dell'unità di crisi si registrano anche 6 vittime. Vincenzo De Luca intanto spinge sulla vaccinazione e si dice d'accordo all'estensione dell'obbligo di Green Pass, non risparmiando dure accuse ai leader di Lega e Fratelli d'Italia. La quantità di stupidaggini che hanno raccontato Salvini, Meloni e qualche squinternato hanno determinato un rallentamento della campagna di vaccinazione. Ci ha messo del suo, per la verità, anche la confusione determinata dal governo nazionale. Oggi dobbiamo fare l'ultimo tratto se vogliamo stare tranquilli. Parole, quelle del governatore, pronunciate durante la presentazione del progetto definitivo del nuovo policlinico di Salerno. Entro tre anni sarà realizzato il secondo ospedale della campagna, dotato di 750 posti letto e un asilo nido per i dipendenti. A Daprocida invece verrà istituito il polo riabilitativo. Realizzeremo finalmente un'unità spinale nell'ambito di un polo della riabilitazione pubblica e l'unico che avremo nella regione campagna davvero importante. De Luca ha poi rivendicato gli investimenti da oltre un miliardo nel campo dell'edilizia sanitaria regionale. A Napoli il grande polo pediatrico regionale, alla rete ospedaliera che stiamo creando in tutto il resto della regione, da Sessa Aurunca, Solofra, Pozzuoli, Nola. Via ai test salivari nelle scuole Sentinella. Basta dad, si riparte in sicurezza, ma l'attenzione deve restare alta. Il commento dell'assessore Fortini a 696 TV, ospite della rubrica punto di vista del direttore Pierluigi Melillo. Sentiamo. Riparte la scuola ai tempi del coronavirus in campagna, tra Green Pass, tamponi, controlli e ingressi scaglionati. Ma è allarme classi pollaio. L'obiettivo per tutti è quello di restare in presenza. Sta partendo infatti il terzo anno scolastico consecutivo alle prese con il Covid. E allora si punta tutto sulle nuove misure anticontagio per evitare quelle chiusure che nei mesi scorsi hanno mandato in tilt la didattica e le famiglie. Come spiega l'assessore regionale Lucia Fortini, ospite della rubrica punto di vista del direttore Pierluigi Melillo. Dobbiamo fare di tutto perché l'anno cominci e continui in presenza. Oggi naturalmente stiamo spingendo perché i nostri ragazzi si vaccinino. Al di là di quello che si dice alle più grandi, piuttosto che dispositivi di sicurezza, è chiaro che il vaccino è l'arma, è lo strumento più importante che abbiamo per metterci alle spalle il Covid e quindi ritornare in presenza e dare la possibilità ai nostri ragazzi di ritrovare una socialità perduta. Da oggi a mercoledì sono 800 mila gli studenti campani che tornano tra i banchi e continua il tour del camper vaccinale davanti alle superiori e gli open day per convincere gli ultimi indecisi del vaccino. La campagna resta la regione con la più alta percentuale del personale scolastico vaccinato e l'invito dell'assessore Fortini è a non abbassare la guardia. Quest'anno cerchiamo di ricominciare in presenza senza ansia, prendendoci i nostri tempi, stando naturalmente attenti anche alle fragilità dei nostri studenti che purtroppo sono molto aumentate, per cui davvero un messaggio di fiducia per tutti. La procura di Avellino ha chiesto il fallimento dell'alto calore, la società pubblica di gestione dell'acqua dei comuni di Irpinia e parte del Sannio. La richiesta di fallimento avanzata dalla procura di Avellino per l'alto calore ha scatenato un terremoto politico in Irpinia dove insistono la maggioranza dei soci, 95 sindaci di altrettanti comuni, compreso il capoluogo oltre all'ente provincia, ma anche nel Sannio che conta 31 comuni afferenti alla società pubblica. Sintetizzando si può affermare che l'azione della procura rappresenta la vittoria del Movimento 5 Stelle sul PD, ma è una vittoria anche per il sindaco di Avellino Gianluca Festa e per i fedelissimi del deputato Demo Umberto del Basso De Caro che hanno sempre contrastato l'attuale gestione dell'ente idrico affidata a Michelangelo Ciarcia che fu anche candidato per il PD alle regionali del 2020. Sono rimasto isolato e contrastato, ha detto il sindaco che ha ringraziato i magistrati per il lavoro svolto. Avevo ragione, la decisione non mi sorprende ma ovviamente non mi fa piacere. Ora vogliamo tutelarci come ente e per difendere tutti i livelli occupazionali. I dipendenti della società non possono pagare per colpe di altri, ha concluso il sindaco. Il debito ammonta 150 milioni di euro e per i magistrati non ci sono prospettive concrete di risanamento. A condurre le indagini il sostituto procuratore Vincenzo Russo che negli ultimi mesi ha ascoltato come persone informate sui fatti diversi esponenti politici. Innanzitutto il sottosegretario agli interni Carlo Sibilia che ha sostenuto da sempre la necessità di portare i libri in tribunale. Ho provato a dirlo in tutti i modi, ha dichiarato il sottosegretario dei Cinque Stelle. Sono grato alla procura per aver portato avanti le indagini ma sono triste perché questo ennesimo calvario poteva essere evitato. Tutti sono sempre stati d'accordo sulla necessità di mantenere pubblica la gestione dell'acqua ma a questo punto il rischio di un ingresso di quote private nell'ente è concreto a meno che non intervenga la regione Campania. Intanto l'amministratore unico dell'ente commenta cercheremo di difenderci per evitare il fallimento. Ascoltiamo. So soltanto che in questi anni della mia gestione ci sono state visite frequenti della Guardia di Finanza alla quale abbiamo messo a disposizione sempre tutto il materiale che ci chiedevano. La cosa mi sorprende per la verità anche se sono chiaramente mitattrista e mi sorprende perché in questi tre anni ho lavorato sodo per mettere alto colore nelle condizioni di poter presentarsi di fronte ai soci e alla collettività in modo sicuramente migliore rispetto a prima. Molti risultati sono stati raggiunti di fatti il salvataggio di alto colore non era una cosa scondata ci stavamo riuscendo questa cosa ci mette un po' i bassoni fra le ruote però rispetto a quella che è decida la legge saremo sicuramente rispettosi spero ci difenderemo purtroppo questa cosa ci indispone perché ci crea problemi con i fornitori e con le banche con tutti i soggetti che praticamente poi dovevano collaborare che stavano collaborando e noi abbiamo messo al sicuro tante situazioni insomma istanzi di fallimento da parte di fornitori non ce ne erano più e da parte di altri soggetti nemmeno ce ne erano più insomma tutte le transazioni che ho fatto le ho fatte nell'interesse di alto calore per cui insomma pensavo di stare al sicuro questa regola che ci cade in testa insomma è un po' pericolosa un immigrato di nazionalità libica è stato aggredito è ferito alla testa da due persone nel tardo pomeriggio di oggi a Benevento l'episodio in via Collevaccino in centro città all'interno di un giardinetto il giovane extracomunitario è stato colpito alla testa in altre parti del corpo anche con una bottiglia a far scattare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena sul posto sono accorsi gli agenti della volante delle volanti della questura sannite l'ambulanza che ha trasferito il malcapitato in ospedale comunale a Napoli restano fuori la Lega e altre tre liste civiche di Imaresca il TAR raccoglie invece il ricorso per la lista Alessandra Clemente sindaco dell'ex assessore vediamo I ricorsi presentati al TAR dal candidato sindaco del centrodestra Catello Maresca che si è visto ricusare le due liste civiche di diretta emanazione hanno avuto esito negativo gli avvocati non hanno ancora letto le motivazioni ma entrambe le liste non potranno correre alle prossime comunali a quanto si apprende anche la lista di ispirazione leghista prima Napoli sarebbe rimasta fuori così come la lista animalista quattro zampe sempre nella coalizione di Maresca ha colto invece il ricorso per la lista Alessandra Clemente sindaco dell'ex assessore di De Magistris ora i candidati delle civiche di Maresca e della Lega possono solo sperare nel ricorso al Consiglio di Stato per non restare fuori dalla corsa elettorale una scandalosa decisione politica che sancisce la morte della democrazia la forma non può vincere sulla sostanza ha dichiarato Maresca si sta consumando un vero e proprio esproprio della sovranità popolare andremo fino al Consiglio di Stato annuncia il candidato sia chiaro che non rinunceremo ai nostri simboli a fare campagna elettorale su questa storia di esclusione delle nostre liste è necessario fare chiarezza nel frattempo la Clemente ha espresso invece una grande soddisfazione la lista era stata sospesa per un errore formale tornano quindi tre le liste a sostegno della sua candidatura oltre ad Alessandra Clemente sindaco partecipano alla competizione anche la lista Napoli 2030 e potere al popolo Elezioni Comunali a Benevento è la volta della presentazione del programma del candidato sindaco della coalizione Arco Angelo Moretti Con il suo appello votate prima il sindaco e poi voi stessi i consiglieri sembra veramente il Conte Oculino che diceva ai suoi figli prima me poi voi e chiaramente significa avere un'idea della politica che è quella che porta avanti dal 75 ad oggi quella degli interessi personali e non degli interessi della città Si infiamma la campagna elettorale Benevento il candidato sindaco della coalizione Arco Angelo Moretti non risparmia gli attacchi all'uscente Clemente Mastella in occasione della presentazione del suo programma per una Benevento Verde accogliente e intelligente È un programma politico che si basa sullo sviluppo verde sullo sviluppo dell'idea di economia circolare e sappiamo che è un programma che è in linea con il Green New Deal europeo per cui sappiamo che si può finanziare tutto ciò che abbiamo detto Con una copia della casta sulla scrivania il candidato sindaco della coalizione Arco vuole dimostrare tutte le differenze possibili tra il suo nuovo progetto e la vecchia amministrazione Vicenda stucchevole quella di questa politica che ancora adesso pensa di dover dare una linea per il futuro dopo insomma i disastri che sono sotto gli occhi di tutti questa persona che per tanti anni ha ricoperto ruoli politici nazionali dovrebbe fare un passo indietro con molta eleganza e dire che forse non è il caso di amministrare una città E infine ancora sul no ai confronti Chiosa Punta era questo racconto mediatico che gli fa comodo di masterla contro tutti la verità è che lui sa perfettamente che i fallimenti amministrativi comportano un isolamento dal punto di vista delle alleanze nei suoi confronti e c'è invece una novità che avanza che è Arco di cui ha evidentemente molta paura ci sono Avellino e Napoli tra le 11 città fuori legge per polveri sottili lo segnala il dossier malaria di lega ambiente sottolineando che a inizio settembre anche i due capoluoghi di provincia della campagna hanno sforato con almeno una centralina il limite è previsto per le polveri sottili ossia la soglia dei 35 giorni nell'anno solare con una media di PM10 giornaliera superiore ai 50 microgrammi a metro cubo Avellino è al quarto posto a livello nazionale dopo Verona Venezia e Vicenza con 39 sforamenti a pari merito con Brescia più indietro Napoli con 37 superamenti del limite di legge il numero di città rischia di aumentare considerovolemente visto che altre città tra cui Caserta con 31 giorni di superamenti sfiorano il limite lega ambiente annuncia di aver scritto al commissario europeo all'ambiente non solo il turismo anche il traffico commerciale è ripartito e le performance economiche del porto di Salerno fanno ben sperare per il futuro La stagione croceristica è ripresa dopo un anno di stop anche se per vedere i numeri soliti bisognerà attendere il 2022 ma intanto il porto di Salerno è ripartito anche dal punto di vista del traffico merci i numeri testimoniano il trend in crescita dello scalo ed il presidente dell'autorità di sistema del martirreno centrale Andrea Annunziata si dice particolarmente soddisfatto La ripresa è già in corso e siamo come dire già tra le prime realtà del Mediterraneo in termini di ripresa sia turistico che commerciale noi dobbiamo dare ai mercati anche attraverso voi della stampa i lati positivi i negativi li dobbiamo risolvere in fretta e questo poi è il risultato il lavoro che abbiamo fatto tutti quanti insieme è un risultato straordinario soprattutto nuove opportunità per reggere la spida della competizione globale che il porto di Salerno è intrapreso da tempo potranno arrivare dal documento di pianificazione strategica ratificato a tempo record dall'autorità portuale che fa guardare con ottimismo al futuro i lavori in corso la ripresa sono tutti fattori che ci sono e ci danno speranza concreta la cosa però più importante è che in tre mesi abbiamo concluso il documento di pianificazione strategica che spesso si dimentica ma è il futuro della portualità campana e specialmente di Salerno che ha un ruolo importantissimo nelle dinamiche dell'autorità di sistema del martirreno centrale Ancora l'emergenza covid in primo piano mandiamo in Irpinia scatteranno a breve le sospensioni per i sanitari Novax intanto oggi ripresa tra i banchi di scuola liceo Mancini tra controlli e timori Completata dall'ASL la lunga e complessa procedura istruttoria per i sanitari Novax a breve scattano le prime sospensioni dal servizio in Irpinia si tratta di una decina tra medici e operatori sanitari finiti nel mirino dell'azienda sanitaria locale per non essersi immunizzati nel frattempo in questi mesi molti sono tornati sulle loro posizioni e hanno deciso di sottoporsi al siero nelle ultime 24 ore vaccini ai livelli minimi appena 351 e sono 5 i nuovi positivi su 217 tamponi oggi è stato il primo giorno tra i banchi al liceo scientifico Mancini di Via De Concilis green pass e controlli con il termoscanner questa mattina per il rientro in presenza degli alunni del biennio oggi è toccato i primi studenti 16 prime classi 360 alunni in tutto soddisfatta la preside Paola Anna Gianfelice abbiamo iniziato oggi proprio per dare tempo ai ragazzi delle classi prime di conoscersi e di conoscere la scuola ma soprattutto di prendere confidenza con le indicazioni le misure di contenimento per il covid quindi gli accessi differenziati il termoscanner e quindi tutti quei comportamenti che erano necessari che dovranno essere assimilati domani entreranno oltre le prime anche le seconde per le quali ci saranno sempre attività di accoglienza perché lo scorso anno la classe prima in effetti è stata una classe che un po' ha perso più degli altri la socialità anche per il controllo dei green pass tutto è filato liscio questa mattina da remoto avevo il 151 persone contrattualizzate di inservizio di cui ho potuto verificare la validità del green pass abbiamo dovuto poi invece controllare di persone in presenza i pochi che venivano stamattina a prendere servizio per la prima volta questa mattina a Benevento il rientro in classe di centinaia di studenti di due istituti comprensivi che hanno anticipato di due giorni la didattica a Benevento riaperte con due giorni di anticipo rispetto al calendario regionale due istituti comprensivi si tratta del committo nazionale Giannone in piazza Roma con annessi soccursali della Federico d'Orrerione Mellusi a piazza Roma alla cerimonia dell'Alza Bandiera con le note dell'inno di Mameli e il sindaco Mastella che con l'assessore all'istruzione Rossella del Prete ha assistito all'ingresso in aula di centinaia di studenti tra speranze e qualche paura per via sempre del coronavirus anche se grazie alle vaccinazioni si spera non ci siano più problemi come quelli registrati lo scorso anno il vaccino quest'anno c'è per grazie a Dio e quindi lo soffriamo tutti sia il personale scolastico in questo caso i genitori i bambini e quindi credo che la forte resistenza al virus che l'anno scorso invece ha bucato tutta la nostra resistenza quest'anno non c'è quindi la scuola va avanti peraltro ho visto i principi ispiratori da parte del Ministero della Pubblica Istruzione per cui dove ci fossero motivi di piccoli cluster e allora si fermerebbe soltanto una classe non intera scuola come capitava gli altri anni però ripeto gli altri anni è stato veramente molto molto drammatico sul fronte della pandemia restano fermi purtroppo a 12 ricoveri al San Pio di Benevento 8 le persone ancora in condizioni preoccupanti in terapia subintensiva Ancora cronache caccia due banditi che ieri hanno rapinato la farmacia comunale di Eboli armati di pistole malviventi si sono introdotti all'interno dell'attività minacciando la dottoressa dopo essersi fatti consegnare i soldi si sono poi dati alla fuga la donna avvertito un malore momenti di autentico terrore per la malcapitata soccorsa dei sanitari il bottino monta circa 4 mila euro le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Eboli conferita la laurea honoris causa lo scrittore Maurizio De Giovanni una grande responsabilità raccontare la città il suo commento vediamo la laurea honoris causa lo scrittore Maurizio De Giovanni è stata conferita questa mattina all'università Federico II di Napoli e De Giovanni visibilmente emozionato circondato dall'affetto della comunità accademica che lo ha accolto riconoscendone il valore di narratore è una connessione è un ulteriore ponte fra questa città e quest'università quest'università è un centro culturale se vai a rivederti la storia di questa città vedi che nel momento in cui l'università si chiudeva in se stessa la città precipitava in un medioevo culturale quando l'università apriva alle forme narrative nuove senza pregiudizi apriva a un dialogo con la città questa città ne guadagnava in maniera immediata questo aspetto la concessione non meritata a me come diciamo esempio di narratore contemporaneo di questa città secondo me è indice e sintomi di un'apertura forte dell'università nei confronti della città alla cerimonia nell'aula magna dell'Ateneo Federico II hanno partecipato tanti componenti dell'Accademia il rettore Matteo Lorito ha detto che premiando De Giovanni si premia l'intera città di Napoli i suoi romanzi dietro il suo grande successo di pubblico c'è anche tanto studio tanta attività di ricerca insomma un momento importante un momento bello per l'Ateneo un momento che noi vogliamo condividere con tutta la cittadinanza con tutta la città di Napoli e un po' premiando Maurizio premiamo anche lo spirito positivo di questa città L'arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi smorsa le discussioni sulla celebrazione della messa per San Matteo in piazza della Libertà basta polemiche serviva un posto bello e sicuro vediamo Non si fermano le polemiche in città sulla celebrazione della messa per San Matteo patron di Salerno che il prossimo 21 settembre si terrà per la prima volta in piazza della Libertà inaugurata per l'occasione il fronte del No è guidato da una delegazione di commercianti e ristoratori con il supporto del candidato a sindaco e consigliere d'opposizione Antonio Cammarota che hanno indotto una class action e pensano a una manifestazione di protesta preoccupati che spostare il fulcro dei festeggiamenti svuoti il centro e di conseguenza locali e negozi l'arcivescovo Monsignor Andrea Belandi che prenderà parte alle celebrazioni presiedute dal cardinale Pietro Parolin segretario di Stato del Papa smorza il chiacchiericcio per San Matteo occorreva un luogo capace insomma di offrire quelle condizioni di sicurezza e anche di bellezza perché comunque è una piazza bella le polemiche ci stanno ce le immaginavamo ma credo che ragionevolmente quella era l'unica soluzione che consentiva una celebrazione in tutta sicurezza e auguriamoci che il tempo ci sostenga quindi preghiamo San Matteo per chi ci sia il sole intanto la giunta comunale di Salerno ha approvato la delibera relativa alla solenne celebrazione eucaristica nella nuova piazza e il sindaco Napoli ha parlato solo di sterili polemiche e come per motivi legati al covid la messa si debba tenere all'aperto e non nel duomo come di consueto accoglienza e integrazione in Irpinia anche il comune di Montoro accoglie una famiglia afghana l'Irpinia si conferma terra accogliente e solidale verso il popolo afgano in fuga dai talebani oggi sono arrivati altri due nuclei familiari a Montoro e Sant'Angelo dei Lombardi provenienti dall'Abruzzo dove hanno terminato il periodo di quarantena a Montoro il tutto è stato reso possibile grazie al lavoro dell'amministrazione comunale e alla magnanimità di un privato che ha messo a disposizione in un appartamento alla frazione Piano dove la famiglia composta da sette persone alloggerà dopo un periodo di qualche giorno in una struttura ricettiva grazie soprattutto alle comunità locali anche nel nostro caso alla disponibilità di un privato e anche della struttura che oggi ci riceve di poter abbracciare accogliere sostanzialmente segno di una maturità socio-culturale importante che insomma è bello testimoniare perché poi insomma noi non possiamo fare altro che testimoniare questo rapporto di accoglienza che onestamente non penso che possa neanche essere fatto in modo diverso perché poi tutti quanti davanti a determinate immagini non possiamo e non dobbiamo restare indifferenti dopo di che tutto viene naturale sostanzialmente Tutto questo lo stiamo facendo con un accordo con due istituzioni due associazioni che sono il forum dei giovani e la commissione delle pari opportunità che sin dall'inizio hanno dato spunto sollecitato addirittura a questo tipo di attività quindi sicuramente avremo a disposizione come potete forse anche vedere un bel gruppo di persone che hanno voglia di rendersi utile innanzitutto e far sentire e sentirsi parte di una comunità Commercio al Via Benevento il primo mercato pomeridiano si punta a individuare nuovi spazi per incentivare le vendite e sostenere il settore Combattere la crisi individuando nuovi spazi ma soprattutto orari differenti per provare così a incentivare le vendite per uno dei settori più colpiti dalla crisi al Via Benevento la sfida del mercato pomeridiano nell'area di piazza risorgimento è partita l'iniziativa rivolta in particolare al comparto dell'abbigliamento ritengo che l'iniziativa che hanno voluto fare è valida non solo è valida è coraggiosa e sottolinea la volontà di trovare anche delle strade alternative per risolvere un periodo che è economicamente difficile per questa categoria io penso che la maggior parte delle persone che normalmente non vengono o per motivi di lavoro o per altri motivi oggi hanno l'opportunità anche semplicemente facendo una passeggiata di accedere al mercato fare due compere io mi auguro che anzi col tempo riusciamo anche a affiancare il mercato alimentare e il non alimentare sarebbe eccezionale riuscire in tutto questo un appuntamento che sembra destinato a proseguire anche nelle prossime settimane che al momento si farà una volta al mese loro vorrebbero farla qui però abbiamo impredicato anche di organizzarlo in altre zone della città ovviamente tutto questo dipende esclusivamente dalla loro volontà e dalla loro richiesta si prova dunque a sostenere la ripartenza del settore e così attenzione non solo a commercio ma anche agli spettacoli che riprendono con le nuove misure come l'obbligo del Green Pass come ribadito in occasione della presentazione della nuova edizione della Notte delle Streghe che torna dopo la pausa dello scorso anno a causa della pandemia abbiamo ricominciato per la verità dando voce in capitolo ai più piccoli e ai bambini che erano quelli a mio avviso più danneggiati da questo periodo molto difficile La mototerapia sbarca in Irpinia questa mattina all'evento al Criscuoli Frieri di Sant'Angelo dei Lombardi Un evento di mototerapia che mira a valorizzare ancora di più una grande realtà il centro autismo realizzato dall'Asl di Avellino all'interno dell'ospedale Criscuoli Frieri di Sant'Angelo dei Lombardi ed affidato per la gestione ad un consorzio di imprese un gradito ritorno in Irpinia per il campione mondiale pilota di freestyle motocross Alvaro Dalfarra Il progetto è molto ampio e fondamentalmente riguarda un'utenza di circa 180 bimbi almeno al momento tra i due anni fino ai 12 per essere precisi ai 12 anni e 11 mesi quindi diciamo 13 anni che fanno terapia domiciliare hub anche con sostegno psicologico per le famiglie poi dopo di che è previsto è stato previsto nel bando dell'Asl anche due moduli per adolescenti over 18 presenti qui in ospedale L'evento di oggi si inserisce in questa struttura e diciamo inaugura qualcosa che noi speriamo di poter portare avanti anzi sicuramente riusciremo a portare avanti anche in futuro cioè aprire le attività dei ragazzi anche all'esterno fare entrare persone da fuori e portare i ragazzi fuori non chiudersi soltanto nella struttura meravigliosa ma che però comunque rimane sempre una struttura Il TG News termina qui ora ci sono le previsioni meteo grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi del canale 696 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti